allora mi scuso per questo breve momento tecnico perché devo sentare un attimino e come al solito tutte le volte che parto con il video aggiornamento devo sempre riprovarlo un sacco di volte per poterlo rendere apprezzabile ecco fatto basta ecco voglio partire oggi è il primo marzo è venerdì primo marzo 2013 voglio aggiungere qualche cosa rispetto all'ultimo video aggiornamento dove riportavo l'interrogazione presentata da Pierfrancesco Pavone consigliere comunale di progetto Locate un'interrogazione che poneva alcune domande al sindaco al consiglio alla giunta sulla destinazione sullo stato attuale dell'ex caserna di via Roma lo stato attuale che tutti i cittadini possono vedere in che condizione è stato lasciato andare in questi lunghi anni quindi in questa immagine vabbè tra l'altro si vede in retro quello che noi non vediamo quello che noi vediamo dalla parte di via Roma già uno spettacolo indecoroso ma dietro ancora peggio con tutti i locali accessibili e pieni di colombi ci si può immaginare lo stato in cui lo stato igienico sanitario che quei locali comportano ma a parte questo che è già stato detto molto sia nelle domande che nelle risposte voglio aggiungere solo una piccola cosa dove appunto mi auguro come cittadino di Locate avendo ascoltato che comunque l'edificio e la struttura sarà abbattuta visto che non ne vale la pena metterci le mani per un recupero e che non venga fatto un nuovo parcheggio in quell'area siccome si è parlato in maniera molto generica e molto ambigua su servizi per i cittadini eccetera visto i parcheggi selvaggi in quello spazio che tra l'altro non rispetta nemmeno le norme sulla sicurezza della legge 626 in caso di emergenza utilizzato dai dipendenti della nostra amministrazione comunale speriamo non sia l'alibi per poter dire che lì occorre un parcheggio dove noi vediamo che molte città più grandi serie indipendentemente dal colore dell'amministrazione si cerca di disincentivare l'uso delle automobili soprattutto nei centri cittadini al che viene quasi facilmente criticabile la mozione unitaria presentata dal PD L e il PD senza la L sul rispetto per chi va in bicicletta contro i furti della bicicletta sull'accessibilità perché sono cose giustamente da portare nei corsi comunali da discutere però bisogna poi seguire dalle parole i fatti ci vuole un minimo di coerenza perché solo ma non per così per essere polemico però vorrei ricordare quando appunto nel mese di novembre con una consigliera comunale di progetto Locate insieme a molti altri cittadini e la giornata era un sabato piovoso purtroppo è freddo abbiamo fatto una biciclettata sulle strade di Locate per richiamare i nostri addetti ai lavori ad intervenire sia per la prevenzione contro i furti delle biciclette dei pendolari locatesi che si recano in stazione in bicicletta sia per una maggiore attenzione nell'utilizzo quando si realizzano delle nuove strade mettere come prioritaria un'attenzione soprattutto alle fasce deboli degli utenti e quindi sono pedoni e ciclisti e giusto per rimarcare il fatto che la bretellina il raccordo che porta da via Milano da via Aldomoro a via Rosa Luxemburg è micidiale è micidiale quel pezzo di strada quando uno o a piedi o in bicicletta si permette di arrischiarsi a percorrerla con il brivido di paura non solo alla piccola rotatoria secondo me da ignorante fuori norma perché veramente è lì sotto gli occhi di tutti è stata contestata e discussa sulla rete prima che venisse completata e le polemiche le discussioni le critiche vanno avanti ancora ma la parte più critica è proprio invece sotto quel sottopassaggio quel sottopassaggio ferroviario non l'abbiamo pensata con cioè se non si pensa quando si fa realizzare una nuova strada ai pedoni ai ciclisti vuol dire che si pensa male si pensa poco e si pensa veramente in maniera sbagliata quindi però al di là di questa questa critica mi sento di fare come promotore di locatevia.it vorrei intanto ricordare di ricordare alcune comunicazioni che sono state date dal sindaco all'inizio del consiglio comunale per cui è stato detto nel consiglio comunale del 27 febbraio è stato accennato alla presentazione dei vari cantieri uno molto visibile accanto alla palestra della scuola elementare di via Don Milani per l'ampliamento per uno spostamento hanno fatto una scelta di potenziare spostare gli spogliatoi verso la nuova struttura che stanno costruendo gli spogliatoi per la palestra e là quei locali utilizzati attualmente come spogliatoi renderli invece nuove aule per garantire offrire quei servizi che cominciano a sentirsi le carenze questi problemi erano addirittura noti negli anni sessanta quando c'erano carenze per le aule scolastiche e mi ricordo un bellissimo film c'eravamo tanto amati di Ettore Scola dove si vedono le scene dei genitori in un quartiere romano che devono fare il notti per prendere il numerino per poter iscrivere i bambini nella scuola del proprio quartiere. Recentemente sul gruppo People from Locate è stato molto discusso i criteri e le regole del come attenersi per poter avere l'iscrizione del proprio bambino alla scuola materna e non so se anche l'asilo nido di Locate e Trivulze. Comunque è stato annunciato appunto ufficialmente in Consiglio Comunale l'inizio dei lavori per la realizzazione delle nuove aule e degli spogliatoi, è stato annunciato che inizieranno i lavori a breve delle barriere antirumore, una famosa promessa fatta in campagna elettorale nel 2009 e visto che ci avviciniamo a quelle del 2014 si parte giusto in tempo per quelle occasioni, è stato annunciato anche che verranno installati e Locate l'aveva già pubblicata una delibera comunale dove avevano deciso questa cosa, i pannelli solari fotovoltaici sull'anguriera, per chi non lo sapesse l'anguriera è quella struttura che è in corso di lavori o i lavori sono in corso dal 2005, dovevano terminare ad essere completati il 31 maggio del 2007, ecco speriamo che non si concentrino troppe inaugurazioni nel corso dell'anno 2014 perché altrimenti diventano persino fastidiosi, almeno io sono allergico a quelle cose da cerimonie con fasce tricolori, pasticcini, poi il rinfresco perché questi si è sempre più convinti che portano voti, sarebbe bello invece vedere in tutto l'arco del mandato elettorale di vedere fare le cose che servono ad una comunità, una maggiore attenzione, una puntualità negli interventi, ecco queste cose qua. E' stato poi fra l'altro detto, ridetto ancora, che stanno procedendo le conferenze dei servizi per la realizzazione del famigerato grande outlet di Locate sulle aree ex Saiva e Siva per cui, niente, ritorno a questo, ritorno semplicemente a questa cosa, bella la mozione dove siamo attenti alle problematiche che circolano nel territorio tra i cittadini, nelle discussioni, però poi si rimane indifferenti nel momento in cui si fa un'iniziativa e non si danno neanche poi risposte, questo è quello che poi rende poi magari un'accentuata polemica nelle cose, perché vedere l'assessore all'ambiente, all'ecologia, a quant'altro alle tematiche giovanili, alla partecipazione, alla cooperazione, eccetera, eccetera, eccetera che di fronte all'organizzazione di una biciclettata sulle strade di Locate e non in campagna elettorale e non in periodo appunto dove, ma in risposta a quei fatti che accadevano che riguardavano appunto i furti delle biciclette che riguardavano, e poi voglio proprio per chiudere, per non tirarla lunga, ecco colgo l'occasione per raggiungere in questo video aggiornamento anche il ringraziamento alle forze dell'ordine ai carabinieri della stazione di competenza sul nostro territorio che recentemente ha comunicato ai nostri addetti ai lavori che erano state recuperate diverse biciclette refurtiva di queste sparizioni, insomma, e che purtroppo si è avuta molta difficoltà nel riconoscimento da parte del legittimo proprietario, perché nel frattempo queste erano state overniciate, eccetera, eccetera e vabbè, per cui vorrei appunto ringraziare invece a questo punto indipendentemente dal fatto di dire perché io sono promotore di Locate Viva, ex consigliere comunale della lista civica Locate Viva.it che ha proseguito l'impegno e lo prosegue attraverso l'attivismo e l'attività di questo sito vorrei ringraziare invece per l'impegno portato all'interno del Consiglio Comunale ponendo all'attenzione quelle semplici domande il consigliere comunale Pierfrancesco Paone di Progetto Locate che giustamente, per la prima volta in maniera pubblica, si è messa sul tavolo la discussione di quell'uomo per il momento ecco, mi sembra di aver aggiunto abbastanza le cose che mi interessava aggiungere ecco un piccolo souvenir, ma velocissimo, niente di... volevo dire, quando era sindaco lei, quella caserma era già ridotta così un saluto a tutti da Enzo Donofrio per Locate Viva.it al prossimo video aggiornamento Grazie.